Ignazio Corrao, capogruppo parlamentare europeo per 5 Stelle in Calabria, adesso, oggi, per un viaggio, come lo definiamo? Un tour? Beh no, no, non lo definiamo un tour, lo definiamo una staffetta per tenere fede ad una promessa che avevo fatto in campagna elettorale, che poi per carità mi fa pure molto piacere passare alla Calabria perché io per metà sangue calabrese, via mamma è calabrese. E' eletto in Sicilia, nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, con tantissimi voti. Se io dovessi chiedere, come fanno in tanti, perché votare 5 Stelle oggi, in un mezzogiorno, in un meridione che ha tante difficoltà e che forse del quale lo stesso Grillo parla poco? Beh, secondo me i motivi per cui si vota il Movimento 5 Stelle sono molteplici. Nonostante noi ormai da anni non chiediamo un voto di protesta o un voto dato così, noi abbiamo sempre chiesto un voto di partecipazione, che è la cosa più difficile da ottenere, perché quello che noi abbiamo sempre comunque urlato, abbiamo sempre preferito in piazza, è quello appunto di renderci partecipi appunto alla vita civile. In Sicilia probabilmente siamo riusciti ad ottenere comunque con una certa costanza dei buoni risultati, perché abbiamo avuto delle esperienze all'interno delle istituzioni molto positive. Abbiamo dimostrato, cioè la gente conosce qual è la proposta del Movimento 5 Stelle e quindi non è più da considerare un voto di protesta o comunque un voto non dato a loro, ma è un voto dato a noi, perché si sa benissimo che diversamente da quanto accade negli altri partiti, noi riusciamo a fare sistematicamente tutto quello che diciamo in campagna elettorale. Abbiamo le mani libere, non dobbiamo tornare niente a nessuno che ci finanzia, perché appunto non prendiamo soldi, ci facciamo le campagne elettorali parlando col nostro unico grande interlocutore che sono i cittadini. E poi i cittadini torniamo contro il ragione, ed è la nostra esperienza nell'Assemblea regionale siciliana come è la nostra esperienza nel Parlamento nazionale. Il risultato che abbiamo avuto per queste europee, secondo me, è un consolidamento di un voto di opinione nei confronti del Movimento, cosa che magari prima era meno consapevole, la gente magari aveva deciso appunto di interrompere un trend di voto, dando appunto un voto di protesta, che adesso è diventato un voto di opinione, almeno dal mio punto di vista. Sì, perché si parla voto di rabbia e voto di disperazione. Si vota 5 Stelle perché la gente è stanca di votare le persone che non hanno dato le risposte, che forse tutti noi ci aspettavamo. Lei ha parlato di mani libere, ma è veramente così? È veramente così nel senso che mani libere perché voi non dovete restituire nulla perché non avete avuto finanziamenti, ma vi lascia veramente liberi Beppe Grillo? Io ti posso dire con assoluta certezza, perché ho avuto un'esperienza lavorativa in Assemblea, che Beppe Grillo neanche li conosce i nostri deputati regionali, come non conosce la stragrande maggioranza dei deputati nazionali. Forse ne conosce qualcuno perché comunque sono quelli che magari vanno in televisione, sono stati un attimino in prima linea per quel che riguarda la comunicazione, ma solo da quel punto di vista. Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio hanno mai messo mano su quelli che sono i nostri programmi, su quelli che sono le nostre proposte. E poi io dico, a prescindere da tutto il tantamme mediatico che viene fatto, basterebbe in maniera molto semplice andare a vedere l'attività parlamentare. Cioè quale metro di giudizio è più reale di quello che viene proposto in Parlamento? Se al posto di fare politica come gossip, quindi mettendo l'esponente della Lega o l'esponente del PD a litigare, non fare capire niente, non fare capire niente alle persone a casa, si va a guardare appunto quello che si propone, quello che si vota in Parlamento, probabilmente gli italiani avrebbero le idee chiare su chi propone cosa e su chi vota cosa. E io invito appunto tutti ad andare a verificare quello, cosa propone e cosa vota il Movimento 5 Stelle nelle istituzioni. E in effetti cosa propone e cosa vota se dice sempre di no? E beh, no, infatti questa cosa che dice sempre di no, lo dite voi. Noi non diciamo assolutamente sempre, noi diciamo di no a leggi elettorali che vengono fatte dentro una stanza tra un massone, uno non votato a nessuno e un pregiudicato, o diciamo no a tutte quelle proposte che vengono ad andare a dare 7 miliardi e mezzo di euro alle banche private quando noi abbiamo un sistema sociale che sta collassando. Noi diciamo sì e proponiamo appunto e abbiamo proposto finora cose di buonsenso, cose che vanno appunto a difendere quella che è la dignità dei lavoratori, quella che è la sofferenza dei cittadini italiani e quello che è lo sviluppo delle piccole e medie imprese che sono di fatto massacrate da una politica che guarda solamente alle grandi multinazionali o a comunque chi ha i mezzi per poter diciamo, per poter appunto distruggere il più piccolo. Il metodo che usa il vostro leader Beppe Grillo è quello di urlare, di dire le parolacce, per questo è stato criticato molto e dobbiamo dire che forse è la cosa che piace un po' di meno. O a lei piace tanto da poter fare interventi e comissi in quel modo? Cioè lei lo ritiene giusto l'insulto, la parolaccia, l'intervento in quel modo per raggiungere i cittadini? Beh io penso che anzi Beppe Grillo è diventato un po' troppo moderato per i miei gusti. Io Beppe Grillo è una persona estremamente coerente, che dice e fa delle cose da sempre, non ha mai amministrato denaro pubblico, non può essere paragonato con gli altri amministratori dei partiti che hanno di fatto vissuto di questo, è una persona che ha fatto delle battaglie, ha rinunciato alla sua attività artistica per portare avanti appunto questo progetto politico. Vabbè tanto recita lo stesso, ha sempre un palcoscenico quando fa i comizi, non è diverso da quando fa gli spettacoli. Però prima io andavo a vedere Beppe Grillo 6-7 anni fa e pagavo il biglietto, 30-40 euro, adesso invece ha messo questa sua grande energia, questa sua grande capacità comunicativa, perché comunque Beppe Grillo è uno dei migliori comunicatori che esistono in Italia, l'ha messo a disposizione appunto dei cittadini che vogliono cambiare pagina. E noi del Movimento 5 Stelle penso che siamo riusciti ad unirci grazie ai meetup, grazie alla rete che è stata creata da Grillo e Casaleggio, e stiamo portando avanti qualcosa che è meraviglioso secondo me, perché non esiste in nessun paese d'Europa un movimento che così dal basso è riuscito ad ottenere un così largo consenso a livello nazionale. Lei sarà in Europa a breve, forse c'è già stato per i primi appuntamenti. Che cos'è per l'Europa e per quello che vuole portare il movimento in Europa il nostro meridione? Cioè le regioni come la Calabria, come la Sicilia, come la Puglia, come la Sardegna, che vivono grosse difficoltà. Come farete a parlare di questo mezzogiorno in Europa, in maniera diversa da come hanno già fatto chi vi ha preceduto e che a quanto pare, questo non si può negare, non sempre ha fatto bene? Beh, innanzitutto faremo una cosa che non è stata fatta prima, cioè parleremo dei problemi del mezzogiorno, perché a me sembra che quello che è successo nelle istituzioni comunitarie, nelle precedenti 6 legislature, sia del tutto ignoto agli italiani. Cioè l'idea comunque collettiva, è la percezione che io ho avuto stando in giro per le piazze, parlando con la gente, è che i parlamentari europei sono persone che scompaiono dalla circolazione, che non si sa bene cosa fanno, se vanno o non vanno. Noi nell'esperienza della nostra circoscrizione avevamo un alto tasso di assenteismo, magari di persone che però in campagna elettorale cavalcavano determinate battaglie mediatiche in un certo modo. Sicuramente quello che andiamo a fare, a prescindere dalla possibilità o meno di riuscire a cambiare con i nostri numeri, cioè chiaramente la nostra volontà sarebbe quella di riuscire a risolvere tutti i problemi del mondo, perché alla fine il nostro datore di lavoro è il popolo e noi vorremmo risolvere tutti i problemi del popolo, chiaramente. Però sicuramente una cosa che faremo col 100% di contezza è portare il funzionamento, ciò che accade all'interno delle istituzioni comunitarie a conoscenza dei cittadini, cosa che finora non è accaduta. Sì, però io volevo sapere bene quello che lei ha detto, però voglio sapere come si parla, che cosa direte della Calabria, della Sicilia e della Puglia, come affronterete per esempio il problema della criminalità, come affronterete il problema delle piccole e medie imprese, addirittura noi abbiamo le imprese a monofigura, cioè quasi familiari, che soffrono così tanto, però il problema della criminalità c'è. Come ne parlerete in quest'Europa? Avete il programma, sì? Di sicuro andremo a recuperare quello che era stato iniziato con la CRIM, che era appunto una commissione speciale che si occupava di criminalità organizzata, che diciamo si può fare qualche parallelismo con l'antimafia, però chiaramente a livello comunitario il raggio d'azione è un pochettino più ampio, e anche le tipologie di criminalità che operano sono diverse. Chiaramente bisogna riprendere quel discorso lì e cercare di accrescere appunto i poteri di una commissione di inchiesta che possa andare a contrastare attraverso i mezzi dell'Unione quello che è appunto il fenomeno delle criminalità organizzate, che ormai non è più un fenomeno che può circoscriversi a quelle che sono le realtà locali della Calabria, della Sicilia o della Campania, ma sono talmente... c'è la globalizzazione dei mercati, ha portato anche alla globalizzazione delle criminalità organizzate, quindi è chiaro che se la si vuole affrontare bisogna guardare con strumenti diversi rispetto a quelli che sono stati utilizzati finora, soprattutto bisogna seguire i soldi, come diceva Giovanni Falcone. Ecco, e invece l'immigrazione che arriva sulle nostre coste, come su quelle della sua regione e anche sulla nostra? Beh, la migrazione è chiaro che noi non possiamo pensare di andare avanti con delle operazioni come l'operazione Mare Nostrum, che fa sì che noi alla fine prendiamo un contentino dalla Commissione Europea, la Mastrum ci abbia dato tipo 30 milioni di euro per l'operazione Mare Nostrum, che sono chiaramente insufficienti e peraltro sono gestiti pure male, perché poi dobbiamo vedere appunto il funzionamento della nostra politica interna. È un problema grosso che andrebbe affrontato da tutti e 28 Stati in maniera appunto congiunta, perché insomma quello che io ho sempre detto è, cioè ma se noi siamo visti sempre in maniera unitaria quando si tratta di parlare dei consumatori, quindi quando si tratta di aggredire i nostri mercati, cioè perché non dobbiamo guardare in maniera unitaria a quelli che sono appunto i problemi frontalieri, perché poi lì si tratta pure di tragedie umanitarie, quindi bisognerebbe guardare sui due piani distinti, di quelli che sono i corridoi umanitari per chi appunto fugge da condizioni di guerra o condizioni appunto di veramente difficoltà dal proprio paese, è poi un altro filone che probabilmente è quello maggioritario, che si tratta di un vero e proprio mercato di uomini, in cui la criminalità organizzata balla e quindi si collega con il discorso della crim, comunque di un controllo della criminalità organizzata congiunto. Lei mi sta dicendo quello che non va, ma quello che si deve fare? Bisogna guardare appunto, bisogna cercare di affrontare il discorso di immigrazione non più con regole diverse all'interno dei singoli stati, in cui appunto emergono magari posizioni più nazionaliste, posizioni più di apertura, più umanitarie, chiamiamole così. Bisognerebbe creare appunto dei poteri in seno alla commissione competente di controllo appunto delle frontiere, insomma un po' è stato avviato questo tipo di idea, è affrontare appunto il problema dell'ingresso in Europa, dato che siamo tutti cittadini europei con libertà di circolazione, e allora scusa se io parlo da siciliano, cioè ma se noi siamo il gate del Nord Africa e quindi abbiamo tantissimi sbarchi e andiamo sistematicamente in emergenza, e poi mica è gente che vuole stare in Sicilia, è gente che magari vuole andare in Francia, vuole andare in Olanda, in Germania, allora dico guardiamoli tutti assieme perché non è che quando vi fa comodo siamo tutti uniti e quando non vi interessa allora ci lasciate soli, cioè quello è il concetto. Dobbiamo pretendere che il tema immigrazione venga visto e venga affrontato in maniera congiunta e non demandare agli stati che hanno il problema con dei contentini. Con chi vi allerete in Europa? Ecco, qui entriamo nel tema caldo, qui noi stiamo facendo una cosa assolutamente rivoluzionaria, è che probabilmente c'è pure difficoltà a comprendere, noi siamo penso il primo gruppo della storia a fare decidere ai cittadini attraverso appunto un referendum online qual è l'indicazione di gruppo con cui gli iscritti vorrebbero che noi ci andiamo a collocare. Io parlo, io sono un portavoce, non sono io a decidere, nella normalità figurati se la dirigenza del PD ha mai chiesto ai suoi iscritti se volevano stare o meno con Schultz, quelli se lo sono dovuti calare basta, l'hanno deciso loro vai con Schultz e basta. Come gli iscritti del PD, non gli hanno mai chiesto niente, figurati se gli vanno a chiedere se vogliono stare nel PPE. Quindi dico quello che noi stiamo facendo è una cosa assolutamente innovativa, ora chiaramente come ogni cosa innovativa ci possono essere dei pro, dei contro, si può sbagliare, si possono correggere le cose in futuro, però di sicuro questa votazione che sarà fatta a breve, probabilmente la prossima settimana, andrà a determinare qual è l'indirizzo che la rete, appunto che gli iscritti vorrebbero per noi eurodeputati. Però sa qual è, ogni tanto viene il dubbio, questa rete che vota, siete sempre voi, o comunque sempre chi di voi gestisce la cosa che controlla il voto, se è reale o meno, che ne sappiamo noi, se comunque viene indirizzato verso quello che vuole o non vuole il popolo? No, il voto mica lo controlla, è controllato all'interno, il voto è controllato da una società esterna, cioè è una società esterna che gestisce il sistema di voto, quindi è assolutamente, è un software che funziona in maniera autonoma, per quel che riguarda il voto. Mi fa pensare un po' a quei sondaggi preelettorali, ci sono le società esterne come se fossero delle garanzie, in un'Italia come questa, voi criticate tutto, pensate che questo possa essere una garanzia? Non è che possiamo pretendere che il Ministero dell'Interno ci metta a disposizione, cioè crea un sistema per farci fare le nostre votazioni interne, cioè alla fine se vogliamo pensare per dietrologia, ogni cosa può essere comunque manomessa o manovrata nei suoi risultati, cioè io credo che comunque l'esperienza che noi abbiamo fatto finora ha fatto sì che nonostante ci fossero delle, ed è capitato, no, ci fossero delle tendenze, ci fossero delle indicazioni in un senso piuttosto che un altro, alla fine la votazione degli iscritti è stata fedele a quella che la maggioranza vuole, finora l'esperienza ha detto questo, poi per carità io non sono Nostradamus, non posso prevedere il futuro. Io stavo provocandola, dicevi, lei l'ha capito benissimo, ma mi svia come abilmente, credo lei faccia in genere, ma io la stavo provocando perché quello che fanno gli altri è fatto tutto male, su quello che fanno gli altri bisogna comunque dubitare, perché gli altri sono questo, sono quello, io non posso ripetere quello che dite voi perché non sono abituata a quel linguaggio, e va bene, allora, solo su questo, ma non essendo abituata a quel linguaggio non ci riesco bene, però quello che fanno gli altri non va mai bene, e quello che fate voi è tutto fatto bene. No, no, io non ho detto questo, io anzi ho detto che noi essendo un movimento giovane... Io sto parlando in generale, quando si affrontano le discussioni con il Movimento 5 Stelle, arriviamo a questo, che gli altri non vanno bene, anche adesso che il risultato elettorale non ha dato la risposta che vi aspettavate, ma ha dato una risposta diversa, allora, il popolo che ha votato per qualcun altro e non per voi è quel popolo che non merita nulla, sono caproni, sono questo, tutti questi insulti li abbiamo letti anche sui social network, li abbiamo sentiti al di là del Malox, anche dal vostro leader, quindi io la provocavo in questo senso, quello che fanno gli altri non va bene, quello che fate voi va tutto bene. No, però Beppe Grillo mica ha detto che chi ha votato il PD o chi ha votato il Renzi sono dei capi, questa cosa diceva Berlusconi, abbiamo semplicemente detto che chiaramente non ci aspettavamo che comunque Renzi, il PD andasse al 40%, chiaramente non ce l'aspettavamo perché per come, più che altro per l'aspettativa che si era creata per i toni che si erano creati nell'ultima settimana in campagna elettorale, però alla fine abbiamo fatto a mio parere un ultimo risultato, perché comunque il 21% è probabilmente un voto di opinione che si è consolidato rispetto al voto di protesta, come dicevo prima, e probabilmente Renzi è stato anche bravo, è riuscito ad ottenere quella legittimazione che finora non aveva avuto, perché comunque non era mai stato votato da nessuno, quindi adesso ha avuto la sua legittimazione, ci avrà i suoi sei mesi, il suo anno di tempo, fino al prossimo test elettorale, in cui potrà dimostrare se è vero che può fare determinate cose, oppure se è semplicemente un fantoccio messo lì dai grandi centri di potere, io propendo per la seconda soluzione, però potrebbe dimostrare il contrario, e allora dirò, è stato bravo, cioè perché si bisogna... Lo dirà veramente? Beh, se risolve determinati problemi, se fa quello che dice mentre sta facendo il venditore di pentole, per ora mi sembra un venditore di pentole, però magari tra un anno mi smentisce e dice sì, la disoccupazione giovanile che noi al sud abbiamo ormai circa il 60%, che è una cosa del tutto drammatica, e Renzi me la riesce ad abbassare al 20-30%, allora io gli dirò bravo, effettivamente ti stai meritando questa legittimazione. Quindi ci sarà la possibilità che anche un sì lo direte, non sempre no. Possiamo tornare un attimo alle alleanze europee, perché si parlava di alleanze che forse non a tutti, nel movimento possono andare bene, come per esempio potresti allearvi con qualcuno che è d'accordo sulle centrali a carbone, per quelle che sono le ideologie sull'ambiente che fino adesso avete portato avanti, oppure io mi sbaglio? Beh, allora qui la cosa va vista in maniera un po' diversa, non è che noi abbiamo... Allora, rispetto al Parlamento nazionale, in cui tu vai e formi il tuo gruppo autonomo, nel Parlamento europeo conosciamo benissimo che ci sono delle confederazioni, più che gruppi politici, perché raggruppano appunto diversi partiti di diversi stati che vengono uniti da una più o meno linea comune dal punto di vista politico, che non è mai uguale, perché è chiaro che ci sono sempre delle differenze tra i danesi, i greci e i portoghesi. Però, allora, qui qual è la situazione? Che comunque per il Parlamento europeo, per incidere, per avere un tempo di intervento, per avere delle cariche, per avere un budget, per poter lavorare, per poter appunto fare bene questo mandato, bisogna allearsi, quindi bisogna inserirsi all'interno di un gruppo esistente, una confederazione, oppure farne uno nuovo. E per farne uno nuovo ci vogliono 25 persone di 7 stati diversi. Quindi che cosa si fa? È chiaro che non esiste un Movimento 5 Stelle Europa, perché se ci fossero dei gruppi uguali a noi in tutti gli altri paesi, non avremmo neanche il problema di stare qui a discutere con chi ci dobbiamo alleare o meno. Per cui ogni gruppo ha sicuramente dei punti di contatto e dei punti in cui andiamo in disaccordo. È un po' così con tutti, andando a vedere, magari con alcuni abbiamo il programma dal punto di vista ambientale più o meno uguale, non andiamo bene dal punto di vista economico, con altri viceversa. Per cui credo che la soluzione, la ricetta naturale, a quello che comunque sarà un problema, è quello di mantenere la nostra indipendenza e tenere fede a quello che è il nostro programma. Per cui se per assurdo, come mi chiedevi prima, si dovrà votare sul nucleare, io già ti premetto che io non voterò. Non esiste, perché comunque noi abbiamo avuto un'impronta, noi abbiamo avuto un'impronta sempre molto ambientalista e siamo appunto, siamo abbastanza categorizzati dietro appunto delle battaglie ambientali che sicuramente non andiamo a tradire, però dico nulla osta che chi sta nel gruppo con noi potrebbe anche farlo. Cioè non bisogna per forza votare sistematicamente tutto assieme. Si possono fare determinate cose con alcuni, determinate altre cose con altri. Questo non crea un po' di confusione? Cioè questo non crea un po' nel cittadino, nel cittadino che vuole seguirvi, che vuole stare insieme a voi, un po' di confusione? Perché come si può essere d'accordo con persone contro le quali, contro tra virgolette, avete fatto delle campagne elettorali abbastanza forti? Come si può, pur di restare in Europa e rispettare determinate cose ed avere dei consensi, votare in quel modo se voi avete una linea talmente diversa? Infatti quello dicevo, noi terremo fede a quella che è la nostra linea. Poi se all'interno del nostro gruppo ci sono partiti o gruppi... Questo non crea confusione, come si sta? E' come dire, in Italia io sto con Berlusconi? No, non è la stessa cosa, perché appunto il funzionamento dei gruppi politici al Parlamento europeo è completamente diverso, perché sono di fatto delle confederazioni, quindi anche negli altri gruppi già esistono delle situazioni simili, perché è impossibile che tutti i partiti che entrano nel Parlamento europeo da tutti e 28 stati abbiano le stesse caratteristiche, quindi è chiaro che c'è una situazione non uniforme che fa sì che poi nelle singole votazioni spuntano appunto votazioni in dissenso, è capitato già nel passato nel Parlamento europeo, ricapiterà anche quest'anno. Poi io spero che alla prossima legislatura ci sarà il Movimento 5 Stelle Europa e quindi non avremo nessun problema. Ebbè, quello sarebbe diverso. Allora, lo spiegavo già l'anno scorso, magari ci arriviamo nel 2019. Verrà qualche volta Grillo a parlare in Calabria? Questa è una domanda che doveste fare a Grillo. Ebbè, Grillo non risponda ai giornalisti. Io già mi meraviglio come fa lei a parlare con me. Io sono giornalista, glielo garantisco. Sono una di quelle persone che voi volete processare. Sono un giornalista, non sono tipo... No, 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 non è quello. Noi vogliamo processare. Quelle sono delle provocazioni che chiaramente facciamo perché è vero che c'è un altissimo... No, io una cosa che dico pure spesso a dei giornalisti giovani. Io capisco, è un lavoro, spesso, e lo si fa pure bene perché molti sono bravissimi. Il problema è che fanno un pezzo, lo montano, scrivono tutto, poi arriva la redazione del giornale e lo fa diventare... Poi strapola un discorso e lo fa diventare in un altro modo e quindi il titolo diventa Grillo è un nazista. Magari vi ho detto le cose fantastiche in tutta l'intervista, però poi dice no, sono andato a parlare con Nigel Farage e quindi è diventato un nazista. Non è così che si fa informazione. Cioè chiediamocelo pure. Ora, a prescindere dal fatto che noi possiamo sembrare aggressivi o quando... o eccessivamente provocatori, però chiediamocelo perché siamo al 73esimo posto per libertà e informazione. Cioè questa è una risposta che dobbiamo, secondo me, a tutti i cittadini che si fanno sistematicamente prendere in giro. Bisogna chiederselo sul serio perché siamo a quel posto anziché puntare il dito contro lavoratori abbastanza seri molto spesso bisognerebbe chiedersi perché siamo a quel punto e avete tante ragioni su alcuni casi. Cambiano spesso, cioè io lo so, cioè non è... sono ragazzi che magari hanno pure difficoltà ad arrivare a fine mese, comunque guadagnano tantissimo, fanno il lavoro con dedizione, si cercano il pezzo, l'intervista. Io non ho nessun pregiudizio, molti li conosco pure personalmente, però poi te lo dicono, dicono io ho portato il pezzo in redazione che era fatto in un determinato modo, però l'editore, la redazione poi lo fa uscire così. Ci si può rifiutare? Molti non lo fanno perché si tratta o il lavoro o il... è per molti in un periodo come questo in cui c'è crisi il lavoro diventa la cosa prioritaria e quindi chi detiene quel tipo di potere? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè De Benedetti, è la tessera numero uno del PD, allora il PD non è niente di diverso rispetto al PDL, cioè non è sbagliato quando noi diciamo che il PD è peggio del PDL, perché è la stessa cosa con l'applicazione pure alla democrazia cristiana vecchio stile, cioè non è normale un paese in cui l'informazione dovrebbe essere una cosa terza, prende i fatti e li racconta, non che qua ci abbiamo, cioè questi ne arrestano, ci stanno riempiendo le galere, e poi il problema dell'Italia è diventato Grillo o i negoziati, cioè Grillo, nessuno del Movimento 5 Stelle ha mai toccato un euro pubblico, mai, nessuno, cioè mai coinvolti in nessuno scandalo, tutte persone incensurate, non ci abbiamo nessuno che abbia mai fatto del male alla cosa pubblica, persone per bene, persone civili, gente giovane, e il problema dell'informazione, per l'informazione, il problema dell'Italia è Grillo. Non è così, a voi fa piacere dire che è così, che il problema dell'informazione è Grillo, noi rispondiamo a quello che dice Grillo, è Grillo che ha parlato dei giornalisti in un certo modo e allora la stampa risponde a quello che dice Grillo, ma Grillo fa anche comodo non rispondere ai giornalisti, perché comunque non parlando con i giornalisti, lui la notizia la fa lo stesso e quindi la pubblicità, la propaganda, se vogliamo, visto che non la ritenete libera, se la fa lo stesso, ecco quindi questo è, però torniamo a quest'Europa, torniamo a quest'Europa, sono pienamente d'accordo con lei, adesso lo stiamo facendo, siamo in piena libertà, io le faccio le domande e lei mi risponde, quindi siamo in piena libertà e non sarà toccato nulla, glielo testimonieranno i suoi amici che sono qui presenti. Lo vogliamo far vedere? Ok, spiego per questo non parlo. Ecco così, così lo facciamo vedere. Allora io ero, allora io sono stato il... Un attimo, posso chiedervi la cortesia di tirarlo giù così la telecamera riesce ad inquadrarlo e lo facciamo vedere a casa, vi chiedo questa cortesia, se ce lo tenete un attimo da là, così l'onorevole può spiegare. Grazie. O perché farmi chiamare onorevole? È onorevole, è onorevole, lo diamo a chi non lo è proprio questo titolo, quindi lei ce l'ha, se l'ha inveritato, quindi... Allora, la storia è stata questa, io facevo la campagna elettorale in Sicilia, siccome avevo veramente, ma veramente, degli esigui mezzi economici, mi muovevo molto ad autostop, passaggi, mangiavo, dormivo a casa di attivisti, comunque è stata una cosa pure molto bella, che io peraltro raccontavo con la mia pagina Facebook, peraltro io ho esperienza di viaggiatore, l'avevo già fatto all'estero per tanto tempo, quindi alla fine era pure un piacere. Tra i giri che ho fatto, sono andato a Pantelleria, che è appunto un'isola che sta sulla placca africana, quindi è comunque un posto, è un posto molto particolare dal punto di vista anche di simbologia, no? E i ragazzi di Pantelleria che peraltro mi invitavano, mi hanno detto, ragazzi, ma è per me un problema comunque prendermi l'aereo, è un costo, allora loro comunque mi hanno fatto il biglietto, mi hanno fatto andare a Pantelleria e mi hanno dato questo cartello, facendomi promettere che se comunque venivo eletto sarei dovuto andare a Bruxelles, no, sarei dovuto andare a Bruxelles in autostop o comunque a passaggi. Ora cosa è successo? Che chiaramente io ieri sera ero alla chiusura del ballottaggio, della campagna elettorale per il ballottaggio a Bagheria, peraltro il candidato sindaco è una persona a cui voglio particolarmente bene, quindi non potevo, non potevo, non potevo mancare. e quindi essendo che lunedì doveva essere a Bruxelles abbiamo un pochettino rinegoziato la tratta, l'abbiamo fatta diventare Palermo-Milano rispetto all'originale che doveva essere Pantelleria-Bruxelles, però insomma già è una cosa, quindi adesso sto cercando di arrivare a Milano e poi da Milano prenderò un aereo per Bruxelles. A Bruxelles porterà le nostre istanze, le istanze dei cittadini. Ci sono qui i vostri amici, qualcuno vuole fare una domanda, vuole dire qualcosa? Dica. In Europa con quale proposta andate a difendere l'Italia? Noi utilizzavamo a difendere l'Italia in quanto sono di quell'avviso che noi dobbiamo andare gliela dico io la domanda e poi mi diceva noi dobbiamo andare con la stessa dignità dei grandi. Se noi entriamo in Europa con questo sistema l'Europa noi Italia ci deve trattare come di dovere cioè significa alla pari senza essere schiavi di nessuno perché noi siamo liberi cittadini e questa è una cosa fondamentale signore. Grazie. Io ritengo che anche questa è una delle non dico questa però degli interrogativi che si pongono molti italiani. Quello che le dicevo però all'inizio è che cosa sarete diversi? Quanto farete contare l'Italia rispetto alle grandi? Noi sicuramente saremo in totale contrapposizione con quelle che sono state le politiche della Troica finora e questo già è di per sé una cosa del tutto nuova perché diciamo che la nostra rappresentanza al Parlamento Europeo è stata sempre abbastanza confacente a quelle che sono state le politiche che ci hanno di fatto massacrate perché quando noi parliamo appunto dei problemi dell'agroalimentare della pesca o del commercio della piccola media impresa siciliana o calabrese o comunque del sud Italia dobbiamo appunto renderci conto che la gran parte della legislazione è derivata dalla legislazione comunitaria quindi poi l'intervento che si può fare a livello nazionale a livello regionale è molto limitato è molto limitato perché dipende appunto dipende appunto da quello che viene deciso a Bruxelles vorrei chiedere al nostro europarlamentare la proposta del movimento per tutelare i medi militari in Europa e anche il contratto delle teleorganizzazioni di imprese italiane e all'estero è un tema hai toccato un tema molto importante è chiaro non è una risposta semplice perché sono questioni che andranno affrontate all'interno delle commissioni di Medo io ti posso dare la mia opinione personale senza sapere in che commissioni andrò a finire però sicuramente il problema della delocalizzazione ad esempio è uno dei problemi principali perché se noi perché per come abbiamo aperto il mercato e abbiamo consentito appunto di andare a produrre ad un costo di produzione molto più basso per poi vendere sullo stesso mercato dovevamo pensare ad un sistema appunto ad un sistema sociale che lo accompagnasse cioè come non dico un sindacato europeo dei lavoratori però se tu vai a produrre in Bulgaria o in Romania ad un costo di produzione che è 10 volte inferiore a quello che hai in Italia e poi vendi allo stesso prezzo comunque senza nessun senza nessun problema all'interno dello stesso mercato è naturale che noi perderemo qualsiasi forma di competitività e non abbiamo nessun tipo di non abbiamo nessun tipo di speranza di poter ripartire con lo sviluppo mentre la prima domanda era riguardo al Made in Italy che comunque si collega perché dovrebbe essere ecco vedi ed è una proposta del Movimento 5 Stelle e sicuramente porteremo avanti che è legata al concetto di chilometro zero quindi quando quando si parla di chilometro zero si parla appunto di dare una priorità a quello che viene prodotto a quello che viene prodotto in un raggio vicino appunto a quello del consumatore che è anche qualcosa che si lega alla politica ambientale chiaramente il Made in Italy poi ha una certa una certa specificità come tipologia di prodotto che è sempre stato apprezzato in tutto il mondo e noi invece al posto di valorizzarlo e quindi di tutelarlo abbiamo deciso allegramente con queste belle politiche internazionali che abbiamo fatto di svenderlo ai paesi in via di sviluppo perché le grandi le grandi imprese italiane che prima davano comunque lavoro e davano anche lustro a quello che era la nostra economia se ne sono andate se ne sono andate quasi tutte a produrre fuori o comunque sono tutte partecipate di altre società che appartengono appunto ad holding che hanno la sede che hanno appunto la sede sociale in qualche paradiso fiscale e questo poi fa sì appunto che si perde sempre la dignità dei lavoratori e la possibilità di vivere in maniera dignitosa quindi è un concetto che proprio riguarda l'economia è il modo in cui si intendono i mercati in occidente secondo me è molto complicato da affrontare è profondo come cosa e onorevole lei prima di fare il parlamentare che faceva? io ho fatto tutti i lavori del mondo sono laureato in giurisprudenza sono giovane ho 30 anni ho fatto la pratica ad avvocato sono in attesa degli esiti dello scritto ho vissuto un lungo periodo all'estero sia in Spagna che in Inghilterra e in questo ultimo periodo quindi era la mia ultima occupazione prima che mi dimettessi lavoravo nell'ufficio legislativo dell'assemblea regionale siciliana per il momento quindi mi occupavo di leggi di legislativo lo stipendio dei parlamentari europei è alto? lo stipendio dei parlamentari europei è molto più basso rispetto a quello nazionale perché era il parametro il riferimento che noi prendevamo quando dicevamo di abbassare gli stipendi quindi credo che con una con una direttiva di 5 anni fa sono stati uniformati perché prima erano in riferimento al paese di provenienza adesso sono stati uniformati tra i paesi dove si guadagnava di meno e i paesi dove si guadagnava di più credo che sia sulla soglia dei 7000 più la diaria però bisogna considerare pure che la vita a Bruxelles e gli spostamenti sono molto costosi da quando lei fa politica si è ricreduto un po' su questa storia degli stipendi troppo alti per i parlamentari ce l'hanno le spese realmente i parlamentari? no non mi sono ricreduto cioè di certo non si può stare con 500 euro al mese perché se no non puoi fare politica non ti puoi muovere però nel limite è ragionevole senza esagerare non c'è bisogno delle spese che hanno i nostri parlamentari il giusto cioè per ogni cosa c'è una giusta misura i nostri sono troppo alti andrebbero dimezzati ecco mettiamola così io la ringrazio per averci concesso questa la aspettiamo tra qualche mese spero di spero di tornare quanto prima grazie a tutti